Per limitare il fenomeno dei furti di biciclette in città, l'amministrazione comunale fornisce il servizio di Punzo Natura Bici presso la ciclostazione di Pescara Porta Nuova. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione FIAB Pescara Bici ed ha preso il via stamani a Pescara Porta Nuova. Partiamo questa mattina nella ciclostazione di Pescara che è da poco attiva ma è un servizio che noi abbiamo svolto già da parecchio tempo in collaborazione con il Comune che ci ha sempre appoggiato in questo. Sarà un appuntamento fisso, il primo e il terzo sabato di ogni mese ha affermato l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia che abbiamo potuto programmare grazie alla costante collaborazione attiva con FIAB Pescara Bici e con Faieta Motors che si è giudicata il bando pubblico di gestione della ciclostazione. La punzonatura è decisamente importante perché identifica la bicicletta ma non è proprio un deterrente al furto ma non è un antifurto, questo è da precisare, ma è bene che la propria bicicletta venga personalizzata con il proprio codice fiscale inciso nel telaio e questo rientra nella politica di mobilità sostenibile che il Comune di Pescara sta proseguendo da anni. Il codice di punzonatura, aggiunto ancora il presidente Filippo Catania, sarà notato insieme con i dati del proprietario della bicicletta in un apposito registro tenuto nella ciclostazione e in caso di furto e di successivo ritrovamento della bici sarà quindi molto semplice risalire al proprietario. È un piccolo accorgimento di sicurezza che mettiamo a disposizione dei cittadini, aggiunto infine il presidente dell'associazione FIAB Pescara Bici. Sarà fisso il primo e il terzo sabato del mese, ci sarà disponibile l'officina, la ciclofficina presente nella ciclostazione dove si potrà funzionare la propria bicicletta.